Lo sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30% Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Weekend di sentenze nel campionato di calcio di serie D giunto alla 36esima giornata Con due turni di anticipo la Novese e il Castellazzo sono matematicamente retrocesse in eccellenza I biancoverdi erano impegnati allo stadio Ottolenghi nel derby contro l'Aqui gara che vediamo nelle immagini Terminata 1-0 per i padroni di casa che grazie a questo successo conservano le speranze di disputare i play-out anche se sarà difficile recuperare sulla 15esima in classifica attualmente il vado almeno i tre punti necessari per evitare la retrocessione diretta Partita bloccata e con poche occasioni da entrambe le parti ma quando lo 0-0 sembrava ormai iscritto al 92esimo Piovano è stato steso in area da bottino calcio di rigore trasformato con freddezza dallo stesso Piovano Castellazzo che saluta così la serie D dopo un solo anno di permanenza mentre le speranze dell'Aqui passeranno dallo scontro decisivo di domenica prossima in trasferta contro Ligorna, sedicesimo in classifica Epilogo amaro anche per la Novese che viene travolta per 7-0 dall'Argentina l'ennesimo capitolo di una stagione sciagurata con una società allo sbando e senza alcuna certezza sul futuro il Dertona che aveva già conquistato la salvezza matematica è riuscito ad ottenere un buon risultato in trasferta contro Rappallo Bogliasco vincendo per 2-1 grazie ad un inizio travolgente nel quale i loncelli sono andati a segno due volte al quinto e all'ottavo minuto a nulla è servito il gol dei padroni di casa giunto nel finale di gara Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche Senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50% Punto Fuoco Le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 In mostra a Palazzo Ducale a Genova fino al 26 giugno oltre 200 fotografie di Sebastiao Salgado il più importante fotografo documentarista del nostro tempo In mostra oltre 200 fotografie eccezionali dalle foreste tropicali dell'Amazzonia e del Congo dell'Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai dell'Antartide dalla taiga dell'Alaska ai deserti dell'America e dell'Africa fino ad arrivare alle montagne dell'America, del Cile e della Siberia Un viaggio fotografico nei 5 continenti per documentare con immagini in un bianco e nero di grande incanto la rara bellezza del nostro principale patrimonio unico e prezioso il nostro pianeta Grazie a tutti